ehi dimmi ma da quanto tempo è che non vai a trovare tuo padre mio padre ma campa ancora scusa dove devi andare a trovare non ho molto coraggio di andare a trovare non mi interessa sta sempre incazzato come un colore è sempre tuo padre mi rimangono pochi anni chi viene con me come sembra tu tu non vieni dai venite anche voi così faccio conoscere pure i miei figli plastic man che devi venire a fa plastic man è un parente del mio sangue allora è andata allora baci da solo da da solo con chi allora facciamo venire pure power t e no non vogliono venire perché non volete venire perché sono impegnati siamo teenager da d'affanculo i teenagers della generazione di oggi dai andiamo muoviti volevo leggere io che sono il campanello che cazzo di campanello di merda è ma non può cambiare il suono ma da quanto è il tempo che non torno a questo maledetto paese è questo posto oh dio mamma mia che paura mi ha fatto terrorizzare mi sembra di vivere le avventure come scubitù shredder ehm veramente shredder è qui shredder io sono Kevin e quali cazze sei soie sono qua perché sei portato le tre caballeros allora lui è Kevin e lui è plastic man sono i miei amici della banda dei super cattivi e com'è che da piccolo non voglio vederlo mai più mio padre ti caschi sempre basta fare con questi scherzi comunque ti volevo dire una cosa dimmi dai sentiamo discorsi da padre e figli è molto emozionante ma non sapevi che tu avevi due fratelli e chi se lo ricorda due fratelli due fratelli come e che non ci hai detto niente che dovevate ancora aspettare aspettare cosa ehm ehm e tu eh alza la voce che non ti sento sei quello di mezzo e c'è un fratello maggiore hai e uno minore un fratello maggiore e uno minore sai dove sono finiti non lo so non li vedo da vent'anni da vent'anni che ho solo a te come figlio ma non hai portato quelle due pesti ehm non sono voluti venire perché? ehm perché avevano da fare dovevano studiare fare i compiti ehi non dire cazzate perché non vi di che non sono voluti venire e citto perché dovevano vedere altre serie Netflix e skateboard e roba va ehm insomma io mi metto a leggere ehi non vi sembra un momento dobbiamo fare ehm te l'avevo detto plastica la mondo convenienza fa cagare con la mamma non offendere non sarà mamma sua se no si incazza quando ero giovane io avevo creato la mondo convenienza ma poi mi hanno cacciato sono dei figli di puttana quindi sei tu il grande creatore di mondo convenienza 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 oh grande capo scusami oh ma che cazzo ti prende? non lo so sono uno scemo scusami ah lui è Kevin il mio assistente ciao e chi è sta faccia gialla? come chi è sta faccia gialla? te l'ho detto si chiama Kevin ehi non si alza la mano si chiama Carl? Carl? no ho detto Kevin che vita ecco perché non volevo venire qua a trovare il mio padre aspetta dove vai? non andare via mi offri un cheeseburger ehi qui non stiamo a casa nostra dove siamo? cosa nostra ma la cosa nostra non è la mafia ssh zitti caro papino possiamo entrare? si ed è tutto un mondo convenienza mondo convenienza poi silenzio è permesso? guarda costa un euro guarda è 1180 euro ma qua c'è uno andiamo dentro dai andiamo papì ma qui a casa vostra ce l'avete la coca cola? certo perché? ne voglio un po' plastic man c'è avete la sprite? c'è tutto perché? la voglio mamma mia come è ridotto questo posto quante poltrone ne hai rubate? guarda la camera tua come è diventata ancora tutta la roba di bebè non hai levato niente? no non c'avevo voglia non hai avuto voglia di fare niente se sei basta ci caschi sempre hai rotto le scatere con questo stupido scherzo che facevi pure da quando ero piccolo guarda Kevin guarda che bello aspetto guarda beh non ti fa paura? no come no ma lo vedi come è fatto? sei di solo l'alito pare che è svenuto va bene una cosa mamma mia quando è ragnatele devo dormire con voi alla casa dei vostri super coglioni cioè i cattivi quelli che cazzi è casa dei covi che dico che cosa? perché la mia casa sta per essere venduta chi l'ha comprato? uno che si chiama Antonio Antonio chi è Antonio? lo gnomo ma Antonio non era uno ah scusa non Antonio l'ha comprata uno è otto mc mcdonald mc pork ho capito chi è ho capito si otto mc pork dobbiamo fermarlo no quella vuole ammazzare papino scusaci un attimo dove andate? ragazzi mi rendete conto che cosa sta succedendo non c'è bisogno di ridere Nicola Genobile che porco che cazzo si chiama voglio sapere per quale motivo che è venuto a comprare questa casa che ne so dobbiamo fermarlo dobbiamo impedirlo guarda anche se è in bozzo troppo sozzeria questa casa ha avuto voglia di impurirlo papino dove sei? ogni volta chi chiama dopo un 5 secondi scompare salve si voglio comprare la casa va bene eh? che ci che ci fai qui? comprare la casa ma se non hai nemmeno visto su internet nemmeno le fotografie come questa casa non se la compra nessuno no ma appunto me la sono presa io come? ma guarda dal vivo posso avere il tuo autografo? no dai che tu sei stato più famoso quel del telegiornale ahi mi ha fatto la bua che bello dai dai ancora 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 oi plastic man che cazzo fai? è famosissimo nel telegiornale non mi interessa è un coglione ahi ehi ma che fate? perché picchiate? guarda il bel tatuaggio cosa c'è scritto? 8 mac por 8 mac por 8 mac dai mettiti occhiari eh ho capito 8 mac pork primo nome nicola secondo genobile terzo porky pig quarto nome è stato cancellato con la scolorina sesto nome chi l'ha cancellato tutti i nomi? l'ho cancellato io perché non mi piaceva no poi ti chiami gastone ah si ti sei cancellato gastone perché non mi piaceva mi hanno fatto furlo scherzo telefonico dimmi perché perché ti vuoi combare questa casa? apri la bocca hai un'afta hai un'afta hai un'afta basta non voglio segno di ripetitibile questo discorso queste stupidaggini ora rimariamo fuori otto mcporche fuori questa casa del padre di shredder aiai aiai ma tu sei ma tu sei dei viustel aia si il viustel che fa aia che botta che botta trincia lo shredder eh scusate ma se volete fare a botte andate fuori bravo porc dai andiamo fuori questo questo posto è tranquillo pietra di convenienza guarda ma questo non è il famoso giardino dove veniva christopher a trovare gli amici di wii depu oddio oh ragazzi ammazziamo di botta gustua da bambina mi piaceva questo bosco aia 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 lasciatemi in pace ma io voglio la casa ma io non voglio combattere con voi ehi qua otto mcporche noi siamo cattivi tu hai fatto tradire pure shrek era un coi e shrek è bravissimo lavora sempre con me avete finito fare a botte i bambini papà non mi sembra il momento c'è messo tempo per rispondere zitto a cinema con su 8 mcporche guarda apri mc la schiena è pronto la cena è pronto anche per l'ospite 8 mcporche la cena ma pure questo strozo devi venire a cena tu nemmeno cazzo è pronto mi sto per incazzare se si ingazza il tuo palzo cazzo amare dai andiamo sai che cosa ho un'idea 8 mcporche ha detto che il tuo cibo fa schifo guarda che non sogno io che ho preparato la roba la preparata con le mani magichine di mio padre tuo padre ha un figlio di puttana papina che vuoi quel maiale che vuole comprare la tua casa perché sei un figlio di puttana come hai detto scusami che volevi una casa mi hai chiamato figlio di puttana eh è così no no basta o vuoi una casa o devi venire a cenare e non litigare con altri bambini ma il tuo cibo fa un po' schifo non sei nemmeno venuto a cenare e tu dici che fa schifo stronzo vieni dentro va bene anche voi due a tavola assitete va bene per il regolamento per la cena bisogna mettere le manette sulle sedie le manette stiamo scherzando sì è il regolamento di questa casa perché dobbiamo mettere le manette è il regolamento otto mcporca non si sputa ci sono i germi e tu papà non metti le manette quando c'era tua madre metteva le manette ma posso mettere le mani libere da solo e buon appetito l'ha finita di sputare ma è lui sto maiale di merda mi tiro le orecchie tutte e due chi ha fatto la puzzetta otto mcporca no l'hai fatto tutto un schledder l'hai fatto apposta no è stato otto mcporca allora li farò dividere ecco adesso metto il cappello metto che sei ufficialmente asino dietro la lavagna metto le catene per cena che tu sarai già ufficialmente otto mcporca chi può venire scrivere la lavagna posso scrivere un attimo fai togliere le manette basta non voglio essere chiamato otto mcporca e come volesti essere chiamato genobile genobile si chiama otto mcporca va bene va bene basta litigare bravi avete finito tutta la bella minestra sai cosa c'era dentro l'ingrediente segreto ci ho messo i grilli e i vermi devo cagare fermata tu sei pazzo mentre voi due che non avete cenato per niente in camera vostra come in camera vostra se stiamo fare l'otto ma dobbiamo fare la nanna guarda che abbiamo quarant'anni l'altro quant'anni ti ho 8 pork cazzo ne frega a te quale quale di puttana aia che male 8 mcporca non hai ne mangiato nemmeno un piatto per fortuna non ho mangiato un gazzai ti serve una mano shredder oh my god no stiamo a cagare ha messo la ricetta segreta si è per quello meno male che non ho cenato per niente vai scappermi da sta casa veloce scappermi da sta cazzo da casa papino è stato onore di vederti perciò grazie di vederci è stato un vero piacere di vederti perché dove vai mi ritorno dalla casa di già a casa scusa signor porchi pig maiale vogliamo vedere la camera ti interessa no basta non mi interessa anche questa casa vaffanculo poi è questa casa di merda dai non mi cominci la metà a piangere ci arrivedem ci arrivedem ad halloween si come no dolcetto scherzetto siamo tornati zia mai più tornare a casa di mio padre lo sai che cazzo abbiamo incontrato eh abbiamo incontrato otto mcpor ben zambò a casa di mio padre era venuto per comprare la casa ma come mi è venuto in mend non lo so ma zia mai più di tornare a quella casa maledetta che faceva troppi scherzi quando ero piccola e poi abbiamo fatto a botte con otto mcpor eh gran bella novità ma ci siamo fatti tante di quelle risate ma perché era venuto otto mcpor per comprare la casa per comprare la casa si e che ci deve fare di quella catapecchia ma tu non ci sei mai venuto a trovare mio padre e me li sei raccontati tu ah ti avevo fatto vedere pur la fotografia questa è la casa di prima e questa è quella di adesso non ti metti a spaventare madonna sand che schifo ah ho fatto pure la foto con mio padre guarda com'è quando apre la bocca questo è quello che mi fa spaventare hai visto? la prossima volta io e te da un'altra parte la prossima volta andiamo a fare un bel viaggio io e te mai trovare mio padre a proposito hai detto che vuole trasferire qua tanto non la vende più la casa quindi non viene ma io mi vedo della televisione la prossima volta 8 mac pork gli faccio un altro tatuaggio io Grazie.